Arriveranno entro oggi al Comitato per la Valutazione d'Impatto Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica le nuove osservazioni del Comune di Manoppello per ribadire il proprio no al progetto presentato da RFI per il raddoppio ferroviario della linea Pescara-Roma. Obiettivo è la bocciatura dello stesso, in vista della convocazione della conferenza dei servizi programmata per metà giugno, come spiega il Tg8 Giorgio De Luca, Sindaco di Manoppello. Adesso nel secondo via che si sta, l'integrazione al via che stiamo preparando proprio oggi, che scade oggi stasera alle 24, abbiamo rilevato che nel primo tratto c'è questo raddoppio sull'esistente, se voi vedete qui sotto nel centro abitato, poi a seguire va in variante. L'assurdo è proprio questo perché non è allora, come dice RFI, che dobbiamo fare tutto sul raddoppio. C'è una variante che parte da 300 metri qui dalla stazione ferroviaria per poi raggiungere dall'anno e abbiamo un viadotto di circa un chilometro e mezzo, quindi un impatto fortissimo e tra l'altro con questa variante c'è un grandissimo consumo del suolo, cosa che RFI oppure il piano PNNR non vorrebbe. La cosa più grave è che questo va a impattarsi dentro l'anno gas. All'anno gas è il più grande distributore centro-sud di gas, quindi non rispettando la direttiva Seveso, ma soprattutto mettendo a rischio quello che può essere la sicurezza. E quindi alla luce di tutto questo, voi proporrete queste osservazioni e poi il comitato via cosa potrà fare? Via potrebbe osservare perché adesso ci sono solo tre soggetti che possono bocciare il progetto, perché l'obiettivo nostro è quello di far bocciare questo progetto il più presto possibile, perché Manopello non ne può più, i cittadini non ne possono più, ci stanno portando a desesperazione perché divide il paese, elimina il trasporto pubblico, oltre demolizione e abbattimento di case civili, abitazioni di ogni genere, attività commerciali. Quindi ci auguriamo che il progetto venga bocciato il più presto, dalla conferenza di servizi che si dovrebbe tenere entro fine giugno. Fatto questo, poi si riparte con una progettazione, una progettazione che noi ci aspettiamo in modo tale che questi fondi vengano spesi in una maniera più giusta e più idonea per il territorio. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo aspettarci appunto questa bocciatura per poi rivedere cosa fare. Un appello, sono 30 anni che chiede la variante del lato interporto. Se la bocciatura non ci sarà? È un grave problema, dovremmo attivare tutte le misure amministrative attraverso i ricorsi al TAR, attraverso ricorsi di ogni genere affinché questo progetto non venga realizzato perché effettivamente è uno scembio per Manopello.